Puoi girare, sono partiti. Allora, Gaggiardo in Arabia. Spero sia solo un passaggio. Camarda in banchina contro la Fiorentina, chiede Pandinu 4x4. Non carichiamolo di eccessive pressioni, è un ragazzo molto giovane, che sta facendo grandissime cose, ma è un ragazzo molto giovane. Tridente 2004, Real, chiede Lucas Pe, Bappé, Hendrik, Vinicius. 2024, Bappé, Hendrik, Vinicius, ma anche Bappé e Rodrigo, Vinicius non sarebbe male. Tommaso Dotta, cosa ne pensi di Bergkamp? È tutto il bene possibile, giocatore di un'estetica, lo definirei lirico, anche proprio per la sua figura. Giocatore maestoso. Donna Roma o a chance Vicario chiede Giaca? No, Donna Roma è il portiere della nazionale. Cosa sta portando Bielsa, questo Uruguay, Lorenzo Cretesi? Sta portando uno stile, sta portando uno stile. L'ha detto dopo la vittoria in Argentina. Queste sono prestazioni che ci avvicinano a definire lo stile che vogliamo avere. Emanuele, un parere sulla Grecia? Un parere sulla Grecia? Non so, mi sembra che siamo ancora abbastanza distanti da un livello importante. Questa è bella. De Rossi, chiede Lorenzo, nella top 3, top 5, top 10 dei centrocampisti italiani di tutti i tempi. Meriterebbe un ragionamento. De Rossi, c'è stato un momento della sua carriera in cui era il più forte centrocampista italiano, secondo me. Comunque uno con pochi paragoni a livello europeo. Nella top 10 credo ci possa stare. Passero Ilicic, Giacomo. Ilicic penso che avesse un gradino di talento in più. Giancouto del Girona chiede Saccardo Andrea. Giocattore che aspetto da tempo, che deve ancora uniformarsi e prendere continuità, ma l'idea di un'evoluzione di Giancouto come terzino in un top club è un'idea che sigue viva. Riccardo, Vinicius è più forte di Neymar? Neymar sono scottato ed ero pronto a scommettere qualsiasi cosa su un Neymar nell'Olimpo dei grandi del calcio. Secondo me ha sbagliato un po' di cose. Lorenzo ti chiede un commento sull'Olanda. L'Olanda è una squadra che secondo me sta trovando dei punti di ripartenza. Sarei contento se Koeman riprendesse qualcosa che gli è stato tolto negli ultimi anni. È una squadra forte, è una squadra anche piacevole. In tanti lo chiedono ipotesi De Zerbi e Real, anche se sappiamo che non sarà così. Io credo che il primo candidato rimanga Xabi Alonso. Adesso sono uscite queste voci. De Zerbi spero davvero che sia destinato a una panchina di quel livello lì, perché sarebbe molto molto interessante e sicuramente sarebbe in grado di essere allenatore di un club del genere. Jacopo crede se prendi Soboslai o Madison? Prendo Soboslai. Finito il tempo.